buongiorno a tutti sono daniele gatti direttore dell'holi the family village di porto santa alpidio prima di conoscere titanca nella mia struttura si lavorava in un modo molto molto complesso e con risultati soprattutto insoddisfacenti l'evoluzione è assolutamente performante oggi abbiamo un cruscotto di controllo da dove possiamo pilotare la macchina olide in maniera semplice performante e sicuramente in grado di dare ai nostri dipendenti una rapidità nel contatto con i clienti che ha fatto la differenza non tutti possono essere performance ci vuole studiare ci vuole capire la differenza di un contratto normale con un contratto performance con tintanca ci vuole anche applicarsi e naturalmente far capire ai propri dipendenti la differenza di collaborare interamente con un'azienda che è completamente un partner forse anche diciamo un collaboratore indiretto della propria struttura sono qui a lavorare con noi sono ragazzi che spingono la struttura oserei dire come se fosse la propria quindi darei anche un tocco di umanità al nostro con contratto performance sicuramente quello che vediamo i risultati che sono sotto i nostri occhi sono quelli dovuti da uno staff tecnico che titanca mette a disposizione del cliente in grado di lavorare fuori della struttura ma nella struttura mister preno è sicuramente un metodo diretto per un una gestione del cliente assolutamente snella veloce ma con risultati fuori appunto da ogni da ogni aspettativa mister preno è il metodo naturale per la comunicazione tramite crm e la prenotazione diretta oggi quello che fa la differenza è avere sotto controllo la propria azienda con mister freno si riesce e con risultati assolutamente mi ripeto performanti mister report sono sicuramente oggi quello che un imprenditore voluto dovrebbe avere ogni giorno sotto gli occhi la capacità di capire all'interno della propria struttura come stanno andando le campagne come stanno andando le proprie performance i propri ricavi da dove sono i canali di acquisizione tutto in un unico contenitore consultabile immediatamente oggi se si vuol tenere sotto controllo l'azienda e sapere dove si sta andando e come ci si sta andando questo è il metodo assolutamente più performante che io abbia mai utilizzato alla preistoria non si può rimanere fermi oggi siamo nel futuro bisogna evolversi non 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 Grazie a tutti.